quindi ragazzi incontro del secolo Psycho Pippo contro Bloodscan e Tuberanza Ha detto un titolo solo, ne abbiamo due Ciao piattaforma rossa Pippo arrabbiato eh Pippo arrabbiato E anche un po' gasato Quindi abbiamo il nostro Tuberanza Che è a bello carico vedo E oddio chi c'è? Ma che episodio speciale è mai questo? Bene Pippo E ora ne fa casino Pippo Eh Mi raccomando Pippo Non mi Mi raccomando Pippo Stavo dicendo Non mi far fare brutte figure Con i big Forza Pippo Metticela tutta Oh 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 Che se vinco contro i loro personaggi O poi gli chiedo di comprarmi Un villino in Sardegna Olè Ovviamente si scherza ragazzi Un saluto A Tuberanza E Bloodscan Che magari sto pronunciando male dall'inizio E gli starò pure sulle balle Che facciamo? Stavate usando come un tappetino? No Quindi quanto dura Vabbè ho capito Fate così Dov'è? No non volevo questo Niente Forse Ah ecco Questo volevo Volevo proprio questo Vediamo un po' di spettacolo No? Ecco qua Bravo Pippo Ma quello che dici di tu Ti direi questo Guarda Ah niente Non ci sono arrivato No Eh infatti Pippo Contro tuberanza Maledizione Aia Aia Ah Pippo Eh c'è Sei stanco Vuoi che stacchiamo la live Fammi sapere Pippo Ah mo dura tre quarti d'ora Basta Bravo Ehi So fare anch'io Fermo così Ma maledetto Guarda qua Ma guarda qua Va bene Va bene Come? Mi devi finire sulla sca Uè Guarda che ti vedo Sai C'ho dieci occhi Si fanno Oh Ci vuoi finire tu Sulla scala Per me è uguale Non mi buttare giù Eh Stai fermo Che sto facendo Una cosa figa Oh Non facciamo gli invidiosi Oh Dai Dopo la figata Che ho appena fatto Ah mamma mia Eh stai fermo E che cavolo Wow 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 Dai Pippo Dai Pippo Che facciamo crescere il canale In dieci minuti Oh No 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 Non iniziamo Non iniziamo Con queste martellate Maledetti Maledetti Martelli Io li devo eliminare Dal gioco Come si fa Come si fa Cioè ma guarda Quanta vita mi tolgono Tutte le volte Damme qua Damme qua Damme qua Porca miseria Ah Riprendolo Approfittano Che se stanno Melando fra di loro No Ma stai fermo No Che è Addirittura Oh Oh Che rischio Pippo lo sai Cosa devi fare Vero Ma che No no Smettiamo La costiminchia Di martelli Perché Poi mi girano Poi mi girano Ecco Vai Proprio tu Dai Albitro Nani Questa dimostrazione Ragazzi Che è anche Un piccolo Canale Ma con un Grande Lottatore Può vincere Contro i Big Ho combattuto Contro mezzo rostra Della WWE E che cavolo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Pippo ragazzi Dimostra di essere Il migliore Grazie Joe Oh